Ciao a tutti, sono Meloni Massimiliano, chef del ristorante Il Fresco, ci troviamo a Lugano in Svizzera, siete ospiti della mia cucina dove io vi presenterò il piatto Il Trionfo, che è una tagliata di manzo depositata su uno specchio di lenticchie. Ci serve logicamente dell'entrecò di manzo, delle lenticchie che io mi sono già percentualmente preparato prima, delle zucchine e delle carote, anche qua io le ho preparate prima, però potete dare in forma, a modo, a vostro piacimento, della maionese e del pomodoro per le nostre guarnizioni. Prendiamo una padella, la scaldiamo per bene, mettiamo sempre dell'olio, prendiamo la nostra tagliata di carne, l'appoggiamo. Io mi sono già preparato delle lenticchie, vi spiego velocemente come l'esecuzione delle lenticchie che ho preparato, ho fatto un fondo di cipolla, carotto, sedano, tagliato a cubettini, ho messo le lenticchie lasciate a mollo il giorno prima e lo portate a cottura. Vi consiglio di non frullarle ma di fare, di creare un composto piuttosto asciutto alla fine. Prendiamo le lenticchie, le scaldiamo in padella per dargli ricolore e vivacità. Andiamo a guarnire il nostro piatto, ho messo della maionese in una sac a poche con una punta gayrata e inizio ad andare a comporre il mio piatto. Questo dovrebbe essere il risultato finale del nostro piatto, vi spiego velocemente cosa ho creato, ho preso il pezzo di intrecò, l'ho tagliato finemente, l'ho appoggiato sul nostro specchio di lenticchie e ho creato questa specie di cornice con della maionese, ho dato delle verdure e ho creato questa specie di cornice. Potrebbe anche un piccolo quadro questo piatto. Buon appetito e vi aspetto al fresco. Grazie a tutti.